E' partita ormai da qualche settimana la campagna elettorale che porterà al rinnovo di moltissime amministrazioni comunali in tutta la nostra regione. Nella vada del Volturno sono numerosi comuni che torneranno al voto con sfide che, secondo le anticipazioni, saranno davvero a cardiopalma. A Rocchetta Volturno, all'uscente primo cittadino Teodoro Santilli, sfiderà un outsider degli anni passati, Antonio Giannini, che ha amministrato come sindaco il comune di Rocchetta per ben dieci anni nel passato. Qui, a scanso di sorprese dell'ultima ora, non ci dovrebbero essere più di due liste in gara. A Cera Volturno vige più totale silenzio per ora. L'unica certezza è quella che riguarda la ricandidatura del sindaco uscente Remo Digliani, che per tutti ha molto ben operato in questi cinque anni e della sua squadra riconfermata in blocco solo con alcuni nuovi ingressi. Per ora gli avversari papabili, nemmeno l'ombra. A scapole, invece, poche notizie al tal riguardo. Renato Sparacino dovrebbe riproporsi con la sua squadra elettorale per tentare il terzo mandato amministrativo consecutivo. A Filignano, invece, è una situazione davvero complessa da interpretare. Per ora si conoscono i nomi di due candidati a sindaco. Lorenzo Coia, sindaco uscente, dovrebbe sfidare la giovane Federica Cocozza, ma non si esclude la possibilità della presenza di una terza lista in gara. A Fornelli, altro capitolo di una saga emozionante, il primo cittadino Giovanni Teneschi si riproporrà all'elettorato per la terza volta consecutiva dopo aver amministrato il comune per dieci anni, con lui riconfermata quasi in toto la vecchia squadra, con diversi volti nuovi inseriti in questi mesi di campagna acquisti. Contro di lui il libero professionista Emilio Pilla, che dovrebbe essere sostenuto dall'attuale minoranza consigliare. Le prospettive politiche saranno maggiormente chiare sabato 27 aprile, termine ultimo per la presentazione delle liste. Grazie a tutti.